Quest'anno però i vaccini contro l'influenza dimostrano di funzionare poco a poco. Come mai? Perché purtroppo il vaccino contro l'influenza non è tra i vaccini più efficaci che abbiamo. Cioè bisogna cambiare il vaccino a ogni stagione sostanzialmente? Il virus cambia ogni anno e noi dobbiamo decidere a gennaio quali ceppi includere nel vaccino che si farà a ottobre. E delle volte purtroppo questa previsione... Io posso vedere, cioè vedo, prevedo e ce la vedo... E delle volte purtroppo questa previsione... Cioè posso, cioè impegnandomi molto, sono molto forte sul passato, cioè sul passato sono fortissimo. E delle volte purtroppo questa previsione... Cioè praticamente diciamocela chiaro, non avete azzeccato il virus giusto da combattere, cioè combattete contro un virus che non c'è. Combattiamo contro un virus che cambia, ci vorrebbe un vaccino migliore, tanti ricercatori stanno tentando di costruirlo ma ancora non l'abbiamo. Cioè il vaccino universale contro l'influenza non esiste? Per ora no, ma speriamo che presto esista. Quindi adesso è inutile vaccinarsi contro l'influenza perché avete sbagliato la scelta del virus da combattere? No, adesso è troppo tardi, però in generale è molto utile perché in ogni caso viene sempre fornito un certo grado di protezione. Insomma la congiura contro i somari può essere anche un po' la congiura contro i ricercatori. I ricercatori non possono tutti, altrimenti avremo risolto tutti i problemi del mondo.